Il pratico lo yoga circa due volte alla settimana ovviamente fa parte di un allenamento più complesso che prevede anche sedute di forza, resistenza e velocità oltre a quelle tecniche. Di solito la seduta di yoga viene fatta dopo quella dell'allenamento tecnico e serve sia a rilassarsi dopo una giornata piuttosto faticosa ma serve anche a concentrarsi per gli allenamenti dei giorni successivi.